un po' della bronzatura, unico in occasione, quasi 50, e lo ritiro, via. Vedete bene da vicino, un bel tipo di color puri, e il prezzo è sempre in varietà, per la Chanel lunga 90 cm. Quindi su un pochino 5 minuti di color puri brillanti, amiche, è tutto veramente a tutto il problema. Potete anche fare questo giro, e la potete avere anche il nuovo giallo. Perciò, i prezzi naturalmente in giro non sono questi, è un prezzo competitivo veramente lunga, ma sono 4. L'R12 ci abbiamo montato per pesarlo. Uno, ne sono rimasti molto bene questi croma. Ho ancora da proporre. Andiamo? Questa qui era? Sì, sì. Allora, questo, amici, non pensate. E questo è l'831, via. Ok. E adesso vi facciamo vedere anche... Bello, grazie. Adesso se io dovessi andare a comprarla, mi chiedono a me. Era per pena, c'è un melone. Appena rollo, bella pesantina. Ah, una cosa che veramente non si può otto. Sì, sta. Oddio, è grano della geleria, eccolo qua. Sì. Pronto qua. Allora, centimetri in oro giallo, impronta, consegna. Cinque le abbiamo già, le abbiamo già, le abbiamo già, cinque le abbiamo già segnate, ne rimangono ancora quattro o cinque, adesso non ricordo sicuramente. Fatevi queste se le porto stavate e domeniche arrivano via al volo. Stavate per questo, fatevi vedere se ne arrivano in tempo, sempre nel volo prima, pare nulla, ok? Quelle le abbiamo... Comunque queste sono quelle che da voi preferite, come la è l'elulo. Facciamo questi due, poi facciamo le due. Un carattere venti diamanti. Ho dovuto fare la busta perché io non ne sarei stata capacita, eh, quindi comunque... Che bello pesante... E diventa un bellissimo fongolo, che io adesso voglio far vedere come rimarrete. Quindi con due catene, è un po' di tappolo, eh. Quindi avete una doppia uscizione, magari potete anche fare con gli eccessi che eventualmente stappiamo. Ed è in mezzo, 9500 euro. Invece la doppia, 9500 euro. 5500, è un carinissimo bracciale. Sponti su sponti, eh. Non ci siamo ancora più, eh. E' veramente altro che 3.000 euro. Non confermarle, in ordine anche più grosse, non sa che lo sostenderebbe. Neanche l'altra giuveleria. Ci eriamo su. un po' particolare non è piccolino ma bucchi ne avete visti con l'inchi? cogliè ed anello attenzione perché non la divido ha solamente 15.000 euro allora partiamo bene dal cogliè 160.30 3 è morbidissima è veramente un tappeto poi c'è l'anello e abbiamo naturalmente non uno ma due allora è efficiento questo è un paru che io non divido anche perché vi ho fatto veramente un prezzo molto invitante per tutto va bene? allora scendiamo così ci rifacciamo approfittatele veramente ne vale la pena anche i brillanti hanno e ancora allora c'era il fiore nero c'era anche il fiore allora abbiamo un trondolo un po' particolare della catena oppure vi consiglio di avvitarla per il fiore i diametri sono quelli che avete visto il trato pazio è brillante è bellissimo amiche questo cogliè è su oro giallo con rubini e rimane anche un bellissimo anello in forma di cuore c'è una cartina amiche è super offerta questa amiche è fonda anche qui amiche non picchiatevi andiamo con M21 andiamo a vedere adesso una riviera un classico a R ok buone amiche allora la il tennis intanto ve lo 22 si è un piccolo investimento più 11 è ancora più interessante soprattutto per la lunghezza si o no allora vediamo la finita uno zappiro a goccia che sono a telefonare 2.990 allora ve lo faccio molto bello il contrasto che si crea ce la posso fare R.T. spero ricordatemelo ragazzi e ve la lascio in fronti brillanti amiche così grossi così belli è un prezzo veramente impossibile questa e posso consegnarne una avrà proprio questa R.T. allora questa la teniamo un attimo allora andiamo avanti R.T. 90 22 carati 30 carati lo vogliamo vedere 2 lo ritiro via grazie la resa eccolo qua tagliamo da sfoggiare grazie lo ritiro R.G. 26 bis questa bellissima goccia R.T. anche questo non ha un prezzo è veramente poverino è svilito questo ciondolo dal prezzo che vi ho fatto è un prezzo che erano incredibili questa mica 1.990 ebbene le cose belle non stancano mai le cose si è qui carato e 45 i brillanti allora il diametro è un diametro piccolo ma volendo penso che qualcosina piccola barrettina si può fare sempre meglio è un anello un po' particolare da abbinare benissimo alle chanel volendo le chanel con le lunghe 90 è un 15 amiche 2 con un carato no non ci sono un carato e 45 di diamanti di collo bello pesantino anche con brillanti ma non di questa qualità di questo vabbè prima di farvi vedere questo tennis che è molto allora non dico importante perché non è clare stringi un po' perché qua amiche 3.000 grazie lo ritiro eventualmente senza il pendente vi do un cose magari i giovani d'oggi non ci tengono più ad avere questi argenti ma io so che comunque tra le nostre care e affezionate amiche questo è un sam bellissimo bulgari non vorrei creare confusione hai capito una sola possibilità anche questa è molto carina adesso adesso non ne ho in questo momento quindi vi faccio vedere la mia vedete visto che l'abbiamo ordinata 40 euro esatto vedete la Chanel lunga 90 segnaliamolo ci fanno identica a quella che fa cattiva di queste amiche è da ordinare e se vi volete mettere già in lista le devo ordinare quindi così sarete senza altro chi le ordina adesso sarà il primo a riceverle no? e insomma sono belli eccoli qua 17 e qualche minuto ho avuto qualche signore qualche signore si sono un po' arrabbiati ma non è andato al mare allora abbiamo uno sparo qua cinzietta tra l'altro sono fermata un attimo ecco ogni p vediamo questo consatemi controllare se si è giusto è molto ben tenuto anche questo Submariner a 4.000 euro